Pesca Junior, vai, vieni, posa, posa, aspetta, eh, aspetta, aspetta, ecco così, aspetta, vediamo, eh, sei pronto? Sei pronto? Sì. Olè, pesce, attesa dai, sono pesce, sono pesce, pronto, tira, tira, ah, è scappato, tieno giù, tieno giù, quando dico via, eh, via, ah, è scappato di nuovo, è scappato di nuovo, sei rimasto male, hai visto? Quando ti dico tira, tira, hai capito? Sì. Tira, olè, pesce, attesa, è bello, dai, non si mangia pesce, potete pescare? Grazie.